E' successo che abbiamo giocato una brutta partita, tecnicamente e caratterialmente. Abbiamo fatto bene i primi 15 minuti, poi dopo il gol abbiamo sbagliato tecnicamente, abbiamo reanimato una squadra che in quel momento era in grossa difficoltà e alla fine ha meritato la vittoria. Credo che questa partita ci debba servire, spero finalmente per capire che per lottare per certi traguardi bisogna avere uno spirito diverso. E credo che oggi l'esempio lampante di questo sia stato, e le faccio complimenti, sia stato Toni che ha 36 anni, ha lottato per 95 minuti come un leone in mezzo a due centrali e non si è mai dato per vinto. Credo che questo per i ragazzotti che abbiamo in ogni squadra debba essere un esempio da vedere e soprattutto da capire. Abbiamo cominciato a perdere qualche pallone di troppo, abbiamo preso qualche contropiede, in quel momento lì la partita andava gestita in modo diverso, abbiamo preso il gol sul primo calcio d'angolo e dopo il secondo tempo abbiamo preso il gol sul contropiede, ma era nell'aria e le sensazioni non erano positive vedendo l'andamento della partita e ripeto, le partite si possono anche perdere, però vanno giocate con uno spirito diverso. Hanno meritato la vittoria e noi invece abbiamo fatto di tutto per perdere questa partita. Noi siamo venuti qui a Verona e dovevamo pensare solamente a giocare, l'abbiamo fatto per un quarto d'ora e poi abbiamo smesso.